Bellissima serata, mi sono emozionato nel vedere la vecchia squadra della polisportiva Carovigno che ha vinto il campionato prima di seconda categoria e poi di prima categoria con Lotti, con Cretì, Lotito, Spagnolo, Sabatelli, Castagnanova, Morciano, i fratelli Ernito Unito, unito, poi unito giusto Tre campionati di terza categoria, dei suoi militari A un campionato di terza categoria capo Cagnoniere erano più i cross di Peppino La Penna dei gol che ho fatto, dai terzino sinistro Gol decisivo per il campionato No, vabbè Mimmo, di tornare a fargli vivere un pezzo di vita giovanile al presidente nostro è qualcosa di micidiale Sono tornato a 10-50 anni, però non si rende conto che ormai... Ehm... Grazie.